E' stato presentato oggi presso Palazzo Ducale il progetto Open Housing promosso dall'Associazione Arci le Nuvole, in partenariato con altre associazioni enti del territorio sostenuto dalla Fondazione con il Sud. Il progetto nasce con l'obiettivo di realizzare in diversi quartieri della città una rete di luoghi nuovi e innovativi, in cui verranno allocati, oltre agli alloggi, 18 posti letto, spazi ricreativi, attività di formazione e imprese sociali. Durante la conferenza stampa sono state illustrate tutte le azioni del progetto e i lavori di ristrutturazione dei locali nei quali andranno a abitare le persone e le famiglie in difficoltà. E' un progetto che mette al centro la comunità. Fondazione con il Sud, nel mettere in campo questo progetto e nel finanziarlo, ha dato la possibilità a questo territorio di sperimentare un nuovo percorso che da una parte aiuta le persone in temporanea difficoltà abitativa, li accompagna in un percorso anche di reinserimento lavorativo, eccetera, e dall'altra dà la possibilità alla comunità di disegnare spazi di incontro e di innovazione. Noi avremo quattro spazi dove si svolgeranno le attività, la piazza Roma, il Regina Margherita e il centro sociale Arci in via Maurizio Ascoli e la rettoria di Sant'Agostino. Questi sono i posti dove, oltre al percorso di sostegno abitativo, che saranno sempre dei sostegni temporanei, si darà la possibilità ai giovani, alle persone che hanno la necessità e la voglia di rimettersi in gioco, di sperimentare dei percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Open Housing ha l'obiettivo di offrire a famiglie e persone indigenti un modo di abitare innovativo, incentrato sullo scambio e la partecipazione attiva degli abitanti, sulla condivisione di spazi e attività e sull'interazione con il territorio. Un'occasione importante, come sottolineano anche dall'amministrazione. Un'opportunità importante è sicuramente un'ulteriore dimostrazione che facendo rete si possono realizzare progetti importanti come quello che oggi è stato presentato. Un progetto che io, comunque come istituzioni, abbiamo sostenuto e che siamo ben lieti di presentare alla città perché sicuramente rappresenta un'azione importante non soltanto per contrastare l'emergenza abitativa ma perché prevede un percorso di inclusione sociale, di crescita personale, professionale, di soggetti che si trovano in gravi difficoltà.